All'inizio di questo tipo di conferenza io intitolavo l'idea costruita come il titolo della collezione, la prima mia collezione dei testi. E dopo questo che ha detto il professore, questo bello titolo di pensare con le mani, non è mio, ha un scrittore portoghese, Saramago, che ha scritto un bello romanzo che si chiama La caverna, e lui parla di come gli scrittori hanno nella punta delle dati, come piccoline cerebelli, dita, dita, nella punta delle dita. E la punta delle dita ha come piccoline cerebelli, perché si può capire perfettamente per un scrittore. Uno dice ha una idea, dopo la parola, e la parola ha bisogno di essere scritta. Una parola se non si scrive, non si dice, non si mette nell'area, non fa niente. E io pensavo, questo esattamente per un addetto dello stesso. Uno ha una idea, la idea deve essere, uno dice la idea è costruita, bene, ma prima di essere costruita deve essere capace di essere costruita. Deve avere questa capacità di essere costruita e deve avere la capacità di essere trasmessa, trasmettere questa idea. E questo è pensare con le mani e generare idee capaci di essere costruita. Sino un architetto che ha una idea geniale e che dopo non si può costruire non è niente. E' come un poeta che ha una idea geniale di poema e dopo non ha parole abbastanza per farla. Questo è un flatus bocis, che direva un classico. Ma io non voglio parlare tanto di questo tipo di cose. Forse è più pratico dire, recentemente ho scritto un testo su Dio, quando è al migliore architetto portoghese, che è Alvaro Siza, le hanno nominato come dottore onoris causa di Porto, e mi hanno detto che l'avete nominato anche qua. Io ho scritto un testo perché lo amo moltissimo e mi sembra uno dei migliori architetti contemporanei, più profondo, più serio, più logico, più razionale, eccetera. E' detto che Alvaro Siza è tre cose, come tre gambe di una tavola. E' un vero investigatore, un vero poeta e un vero creatore. Un vero investigatore, lui ricerca, ricerca e ricerca, e noi siamo, gli architetti non siamo produttori di forme, non siamo pittori, non siamo, anche la pittura, non voglio parlare di questo, ma siamo investigatori, ricercatori. Il nostro non è solo un gioco formale, di dire, ah, andiamo a fare una cosa bella, simpatica, ma è qualcuna cosa più profonda. Io mi ricordo che aveva un filosofo spagnolo, che si chiamava Subiri, che quando gli hanno nominato premio nazionale di investigazione, lui ringraziava agli spagnoli che la società spagnola era capace di riconoscere che la filosofia era un vero lavoro di ricerca. E io ho preso il suo testo, ho cambiato la parola filosofia per la parola architettura, e era perfetto. L'architettura è una labore, deve essere una labore di ricerca. E io dicevo, Alvaro Siza, sempre ricerca, non solo pone in piedi cose formali, una cosa più profonda. Dopo, essere un poeta. Essere un poeta, o lui è un poeta, non tanto per avere un aroma poetico nella sua architettura, una cosa così bella, ma perché la poesia è una cosa precisa, è un lavoro preciso. A una poetisa, una poeta femminile, poetisa, poetessa, spagnola, che si chiamava Maria Zambrano, e lei diceva una cosa bellissima, che era che la poesia era la parola accordata con il numero. Parola e numero. E uno dice, e l'architettura è lo stesso, il materiale con il numero. E uno dice, forse questo è un razionalista asqueroso. no, e questo è la misura, la proporzione, la scala, tutti i meccanismi che ha usato sempre l'architettura, non sono vecchi meccanismi, è come la poesia. A me piace moltissimo leggere a Pindaro, e Pindaro uno dice, ma Pindaro era un greco vecchio. Pindaro, la poesia di Pindaro è bellissima, è attuale. E l'architettura, è l'architettura di Bernini, è attuale o no? Attualissima. O l'architettura del Bramante, quando questa mattina io guardavo come il sole entrava per i buchi rotondi di Santa Maria delle Grazie, che 3, 3, 3, 3, 3, e viene il sole e in ogni momento e io ho detto, Alberto, tu non sei originale, nel tuo asilo nido, tu hai fatto per Benetton a Venezia, tu hai fatto lo stesso, 3, 3, 3, 3, 3, e tu sei un poco originale, forse sono poco originale. L'architettura ha meccanismi, la storia dell'architettura e la memoria, tante cose che dopo si può parlare, ma parliamo di Alvaro Siza, come investigatore, come ricercatore, come poeta, come creatore. Come creatore? Un creatore, siamo creatori? Uno può dire, ah, cosa tremenda, creatore è creatore Dio, e a Dio si dice di Dio, che è il grande architetto, è vero. Noi abbiamo questa capacità di creare una cosa che è magnifica, che è l'architettura, che dopo noi moriamo. Uno sparisce, sicuro, questo è sicuro, ma l'opera rimane. Ha un testo bellissimo, ho citato a Subiri, ho citato a Lazzambrano, e in creazione può citare, o fare la quotazione di Zweig, Stefan Zweig, che forse qualcuno ha letto qualcuna cosa di lui, e lui è un testo bellissimo, che si chiama Il secreto della creazione artistica, un testo piccolo, ma perfetto, che lui parla della creazione artistica in generale, ma che si può leggere con la testa dell'architetto. E lui dice, questa capacità del creatore di trascendere, che la sua opera trascende, si dice trascendere, trascende, e noi, uno sparisce e la opera rimane, rimanere nel tempo, rimanere nella memoria degli uomini. Uno dice, ah, che cosa tremenda, e cosa tremenda, che noi possiamo farla. ricercatore, poeta, creatore. E io potrei cominciare, ma un pochino di più, un minuto di più. Ultimamente, insegnando, che uno impara più chi insegna, questo che parliamo di un docente, per noi, insegnare, con tutti voi, è un regalo, un regalo per noi. noi siamo come affilando, affilando il bisturì. Un chirurgo, il mio papà era un chirurgo, e come era un chirurgo vecchio, aveva il bisturì, non era un laser, un laser, era un, come un coltello. E il coltello doveva essere affilato, sharp, very well sharp. E noi siamo, i docenti, siamo come affilando ogni giorno il coltello, dopo per tagliare il cibo e per me, e questo è un regalo. E con questo io posso parlare di tre altre gambe per la nostra tavola essere stabile. E parlare dell'ordine, stabilire l'ordine dello spazio, il nostro lavoro. Ma non è, fortunatamente l'architettura è magnifica, non ha una sola architettura. Uno dice preferisce Bernini o Borromini? La vecchia questione. O preferisce Bernini o preferisce Miss Vandero o preferisce Miss Vandero o Le Corbusier. Fortunatamente non ha una sola verità architettonica. E questo, siamo abbastanza libri. Ordine, stabilire l'ordine dello spazio. Uno. due. Sapere che la ragione è il principale strumento dell'architetto. Io posso parlare delle mani, ma è la testa. Un architetto deve avere una buonissima testa. E nella testa dove si produce la creazione? Topo, evidentemente, ma la ragione, essere, la ragione è il punto basico dell'architetto. E forse il terzo punto che forse è il più chiaro. È la bellezza. La bellezza. Questo, quando il vecchio Vitruvio parlava della venustas e diceva utilitas, firmitas venustas, la funzione e la costruzione, ma è la bellezza. Uno che non era italiano, che era greco, che si chiamava Platone, e diceva che la bellezza era lo splendore della verità. Uno dice ah, questo è filosofia? No, 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 questo è architettura. Quando l'architettura è vera, quando la struttura è vera, quando la idea è vera, quando la costruzione è vera, quando tutto è vero, viene, può arrivare la bellezza. La bellezza non viene per essere ah, con un ornamento, con un dettaglio, no, no, è più profonda. Quando si, è la verità, è indietro, dopo, lo splendore, si dice resplendore, esplendore della verità. Io mi ricordo un giorno, io parlavo di questo con i miei studenti e una studentessa ha detto eh, professore, questo non è di Platone, questo è di Sant'Agostino. Evidentemente Sant'Agostino prende, prende a Platone e ripete questo perché è chiarissimo. La bellezza come splendore della verità. E questa è la mia tentativa. Io non sono, io sono qui e insisto che ringrazio enormemente la vostra presenza e sono come a casa, eh, sono felice. Ma tento di dire che tutto questo, tutto questo merita la pena. Che essere architetto è una cosa bellissima. uno non può andare, tutti voi, gente giovanissima e dice oh, la crisi, Dio, la crisi, che andiamo a fare dopo, che vanno a fare dopo avere la lode o la lode la lode 110 con lode o senza lode. io ho fatto la prima casa dopo quattro anni e la vita è così e merita la pena essere architetto. Questa cosa è chiarissima. È un lavoro bellissimo. Io dico che è il lavoro il più bello del mondo e questo tento di fare. Andiamo a guardare qualcuna opera fatta con questi registri. Questi registri. prima una casa ma io non voglio parlare di una casa voglio parlare di un tipo di casa in questo perché la mia formazione quando erano studenti tutti gli italiani erano con noi il Rossi tutta la tutta la squadra erano e si diceva la tipologia il tipo si parlava del tipo e aveva un po' di paura e dopo uno scopre che veramente questa casa come questa casa come questa casa e come questa casa è la stessa e sono case che parlano di la creazione di una plataforma in fronte in una situazione che è la stessa o similare in ogni casa che è una posizione in alto e con un pezzaggio di orizzonte lontano e uno dice andiamo come sopra il tappeto il tappeto di Aladino e sottolineando il pezzaggio sembra che il pezzaggio viene e questa cosa semplice che è imparata di Mies van der Rohe ma anche imparata del Rembrandt ha imparata di tutta la storia questa questo della linea dell'orizzonte quando l'altro giorno erano releggendo raccomendo molto la re-lettura ieri alla cena parliamo del re-leggere e io releggeva Alpanowski parlando della prospettiva che forse avete studiato tante volte e uno dice questo è semplice e dire dove e uno mette la linea orizzontale e quando il piano orizzontale viene verso l'altezza degli occhi si trasforma in una linea e sparisce e viene leggerissimo e questo è così non è la re-lettura è è come la cucina si fa il risultato è una cosa magnifica questa casa è la stessa è un piano è l'orizzonte lontano e sopra questo piano orizzontale io ho mettito come un templo la parte pubblica della casa all'interno del soccolo del podio si può parlare di tante cose che non può parlare ora dopo questa casa l'altra era la casa di Blas questa è la casa Ruffo ma la posizione era similare in un altro posto e si è fatto una casa diversa ma è uguale la risposta è la stessa due plus due due plus plus due più più due più due quattro uno dice due più due quattro punto punto e voglio parlare un pochino di questa questa è a New York vicino a New York era questo in colina in fronte della colina era questo paesaggio il fiume Hudson River dove il Hudson Turn in fronte a sinistra per come aneddota West Point questa accademia americana che non si vede perché le alberi fortunatamente lo lo tappa ma in questo paesaggio di orizzonte lontano ho fatto questa casa che è così e questa è la sezione è un zoccolo con tutte le le camere a letto e tutte le funzioni che sono più privati all'interno e sopra le funzioni le più pubbliche in questo modello si può leggere perfettissimamente dopo questo il piano orizzontale è fatto in travertino io doveva dire qui romano ma non mi piace mentire è un travertino brasiliano ma è travertino io l'ho emettito perché io ho detto travertino romano ma era carissimo ma il piano è piano la cosa la più importante è il piano anche la materialità sempre uno dice la materialità dell'architettura questo un'altra volta il tatto questa mattina io erano con la mia mano sulla una colonna questa colonna che sembra un albero con i pugni del bramante e piangiava questo era era tremendo no? e questo è la materialità ma questa casa appunto è orizzonte lontano un corrimani io diceva no non si deve fare un corrimani della purezza e la tutto perfetto no e dopo viene l'assicurazione americana che dice non si mette corrimani non pago e il proprietario il corrimani e dopo non succede niente l'architettura non è non è una cosa neurotica tutti gli architetti e tutti loro lo sanno forse voi siete tutti giovani innocenti tende a diventare neurotico neurastenico e no e fortunatamente ha una cosa maravigliosa che è un elogio della imperfezione l'architettura può essere imperfetta come noi io sono un disastro un pecatore e sono qua tranquillo punto 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 indietro il bosco il forest il bosco il bosco e anche il sofà è italiano perché il proprietario è un italiano e questo il paesaggio è bellissimo e la casa è bellissima non perché la casa io dico sempre di questa casa che è bellissima perché il paesaggio è bellissimo e questa casa non fa un'altra cosa che mettere in valore il paesaggio punto con questa uno dice la trasparenza bene che la si può guardare che un pilare una linea di pilare è fuori un'altra dentro e questo sottolinea la idea tutto questo è vero ma lo che è vero è il paesaggio bellissimo che questa casa la mette in valore la bandiera italiana è del mio amico Pistoletto che l'ha fatto per questa casa apposta e lui mi ha mandato una lettera bellissima sul cartaspecchio come lui lo fa e lui è simpatissimo anche Alighiero Poetti è tutto italiano è tutto arte povera italiana che è magnifica punto e dopo questa famiglia di casini o di case che sono fa peisaggio far horizon va viene un altro un altro tipo che uno dice questa casa a Zaragoza è tutto al contrario introversa se nell'altra si può parlare di sottolineare il paesaggio qua io dico un po' pedante pedante sì grazie pedante dico orto conclusus il orto chiuso si fa una scatola che guarda il cielo e dopo si crea un paesaggio proprio introverso e la casa viene a perché tutte le casine che sono intorno sono schifose veramente schifose io non posso dire questo ma lo dico ma questo viene di una famiglia di casine che sono queste le casine che fanno lo stesso problema la stessa soluzione e punto 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 e papà e in questa casa a Zaragoza il schema è questo uno dice tu dai morire perché la casa fa la scatola che guarda al cielo sotto si scava per dormire perché dormire è morire un po' chiaro per vivere il gran flore il piano terra e sopra non voglio parlare ora di bachelard del sonno ma è sognare in alto si sogna la libreria la biblioteca la casa è così una scatola verso un'altra scatola la principale prende la forma del solaio che è informale e l'altra viene con la forma e con la geometria la geometria un altro un altro strumento valiosissimo uno dice non è moderno è antico uno dice ora con il computer si può fare un sistema tensicritico o si può fare un sistema complesso perfetto ma prima sapere perché se si fa un'analisi del corpo umano uno dice la struttura la struttura del corpo umano è lo scheletro lo scheletro lo scheletro io sempre quando arrivavo a questo punto parlava prima di Halle Berry ma questa generazione non è di Halle Berry questa generazione è di Megan Fox qualcuna volta ho parlato di Carla Bruni ma Carla Bruni per voi è come la vostra nona devo parlare di Megan Fox e questa Megan Fox che sta bene prima di stare bene ha una struttura è una struttura perfetta che è lo scheletro scheletro è lo scheletro e lo scheletro è simetrico ma lei non è simmetrica è quasi simmetrica ma ha un cuore solo non ha due cuori ha un solo cuore e tutti questo tipo di cose ma sempre ha una struttura la struttura un'altra volta questo è veramente quando abbiamo parlato di stabilire l'ordine dello spazio la struttura stabilisce l'ordine dell'espazio non è solo per sopportare la gravità e non si può io mi ricordo il mio vecchio professore sono molto affortunato nella mia vita io sono un disastro ma la gente intorno a me sono abbastanza meglio che io e sempre il primo professore mio era uno che si chiamava Alejandro de la Sota de la Sota è un vecchio come Albini qua o come Tesenov era molto Tesenov e lui diceva figurate se uno quando nasce il suo figlio la mamma dice oh con il figlio in braccio dice oh ho dimenticato lo scheletro si apre e si mette lo scheletro dopo tanti architetti fanno così tanti architetti fanno una forma frivola superficiale e dopo dice no ingegniero vieni qua mette lo scheletro e questo è tutto al contrario un vero architetto la verità Platone la verità lo scheletro dall'inizio dall'origine quando il bambino ancora è un niente ha l'origine dell'esqueletro anche la installazione e tutti loro tutto questo discorso che no io devo continuare è questa casa le cave le cave dove sono le camere al letto che sono aperte all'epatio il piano terra tutto trasparente che con la geometria si mette due muri che sono in nero nella pianta questa per definire perfettamente questo limite in uno si mette un po' di acqua l'altro no e tutto è molto controllato l'architettura controlla lo spazio non gli dice ah che bella l'architettura erano cucinando e poi è venuto un flane no per fare un flane che è la cosa la più semplice si deve sapere come quanto tempo quanto tutto e qua si deve controllare e questo spazio è controllato e sopra la biblioteca che guarda al nord con una vetrata traslucida per prendere la luce la scala al centro rotonda e punto perché una casa piccola è fatta molto economica qua si guarda bene la sezione sempre la sezione è molto molto importante non per me per l'architettura e qua il risultato è questo uno può dire ah questo campo paese è tutto bianco tutto bianco tutto bianco ma il bianco è sporco ma la camicia è bianca e quando il capello uno diventa maggiore è bianco e tante cose il bianco è un discorso lungo ma trasparenza live to vivere in mezzo nel piano terra e sognare sopra vivere in questo piano terra fortunatamente il proprietario non ha comprato il mobile aveva il mobile da tanto tempo fa il proprietario è un poeta un po' stupido no un po' stupido è l'unico proprietario la casa è bellissima mi piacereva molto economica e lui dice ma nel pavimento ha una linea chinone e per questo dico stupido per scherzare un po' ma è così no è l'unico proprietario che invece di essere felice con questo è neurotico sulla sua vita ma la casa è bellissima io non ho questa biblioteca a me mi piacerebbe avere questa biblioteca è una biblioteca magnifica e punto e questa casa appartiene al tipo di case che sono scatola con la scatola eccetera eccetera dopo viene il museo di Granada il museo di Granada uno dice ah che bella rampa questa immagine devo riconoscere che la immagine è un po' pornografica perché è perfetta ma questo è il merito del fotografo il fotografo che ha fatto una fotografia che sembra un po' più astratta della realtà la realtà è anche abbastanza astratta ma e questo era no questo edificio era la banca che forse è l'edificio più più conosciuto da me perché è il primo edificio grande che ho fatto e uno dice ah ma un architetto deve fare una cosa grande per essere riconosciuto no ma un edificio grande uno può dire io non ho paura di fare uno grande e in uno grande si può fare con la stessa tensione di uno piccolo uno può fare un poema Shakespeare è fantastico quando fa i sonetti i sonetti di Shakespeare sono fantastici ma è fantastico quando fa un'opera di teatro lunga Omero ha fatto un'opera lunga l'Odissea o l'Iliada e sono bellissime uno grande un edificio grande è questo dove si parla della luce eccetera questo è un regalo come l'alabastro e la luce del sole e quando il sole è capace questa geometria non è casuale è che il sole è capace di cantare così ma parlo di questo per dire che quando io ho fatto il museo che questo edificio in prima linea era una addizione alla banca e la cosa per me la più importante non era fare un edificio ah brillante ma si dice costruisce la città con la banca si fa un secondo edificio e questo secondo edificio viene in continuità per arrivare al fiume che è in prima linea dove la 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 carretera l'autostrada e e punto il sistema era molto semplice per fare questo museo si fa una scatola questa scatola ha la stessa altezza del podio del primo edificio e la stessa allineamento con questo è come lo schermo dove sono gli uffici del museo è come una slice come una come se abbiamo tagliato l'edificio grande della banca di maniera che sono come le parole in un poema uno dice perché un poema quando una parola si mette in una maniera o in un'altra è questo è così si mette la e qua si ha la stessa altezza la stessa linea lo stesso da qua sembra più grande e più alto il nuovo edificio e non più alto e più grande esattamente la stessa altezza e l'altezza dimensione white ma è come un slice e punto e questo per me è la cosa la più importante dopo sopra in alto come un occhio che è un restaurante che guarda al fiume e alla città bene e dopo si fa un patio al centro che può essere quadrato rotondo elliptico e si decide chi è elliptico in onore di tante cose è così punto punto e la sezione e il patio il patio si analizza bene può essere di qualcuna forma ho deciso di essere elliptico per fare questo giochio di compressione e dilatazione la rampa è rotonda la envolvente elliptica e quando uno cambia di piano cambia anche di compressione e dilatazione semplice e uno dice ah che cosa è questa questo è un patio del palazzo di carlo quinto a granada che ha fatto un spagnolo che si chiamava maciuca è un patio bellissimo alla italiana e il tafuri che erano un po' diabolico fantastico intelligentissimo brillante ma diabolico diceva questo non è possibile che un spagnolo ha fatto una cosa tanto bella questo e ha detto prima già non mi ricordo se lo attribuia a Sangallo o lo attribuia a Giulio Romano diceva che era eh ma non era tanto ma lui non parlava del Mantegna della casa del Mantegna lui parlava di Sangallo o dell'altro di Giulio Romano scusa grazie perché il nostro il nostro spagnolo maciuca aveva stato aveva stato a Roma evidentemente come tutti gli spagnoli andava come Velázquez come tutti andavano a Roma per per imparare 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 ma non copiava imparava e io ho detto io devo vado a imparare di più e questo patio e questa è la questa è la dimostrazione ma papà io ho preso le stesse dimensioni ma le stesse dimensioni non è tanto neanche il Giulio Romano neanche il Maciuca neanche papà ma uno dice se uno si mette eh sono 43 e 32 uno dice 43 43 43 in Spagna è il nome di un licore licore 43 ma per voi architetti architetti aspetto 43 è la dimensione è il diametro del Pantheon uno dice ah ah il Pantheon il posto il più bello del mondo per un architetto io ho un contratto con i miei studenti sempre che studenti quando quando va al Pantheon deve mandarmi una cartolina ho piangiato o non ho piangiato pianto grazie o pianto o non pianto e ho una collezione di cartoline che tutti hanno pianto me perché parlo di questo uno all'interno del Pantheon o all'interno di Macciuca o all'interno quarantena uno si prende le due mani le due mani e io ancora controllo le due mani in questo momento ancora controllo le due mani un momento dove già non controllo le due mani il punto limite dove uno controlla l'angolo visuale è questo se uno si mette al bordo al borde del Pantheon o del Macciuca o del mio patio al borde uno è il momento dove ancora si controlla uno dice ma questo è fisico questo è geometrico questo è matematico questo non c'è la scoperta del mondo neanche la salvazione del mondo è una una receta è come la cucina punto e questo è così uno deve sapere imparare applicare si capisce rispetto e qualcuno dice no qualcuno anche cattivi dice no ah ma lui dice che non ha copiato del Pantheon non ha copiato di ma ha copiato di Lubeckin il zoo di Londra il zoo di Londra è tre volte più piccolo che il patio evidentemente chiaro che mi piace moltissimo questa rampa chiaro che questa operazione di cambiare di piano e compressione dilatazione compressione dilatazione e le due nel doppio senso lo fa ma il poverino del pinguino ancora io non conosco nessuno pinguino che capisce l'architettura ma la scatola di Lubeckin è bellissima è veramente bellissima le inglesi che sono un po' io non posso dire che per sicuro che ha qualcun inglese qua della dell'Erasmus non può calificare ad un inglese ma che sono speciali la scatola con i pinguini è vuota e hanno mettito i pinguini in un'altra in un'altra scatola e questo lo ha fatto lo aveva fatto lo mette in bene con l'acqua che veneva il pinguino tutto era per i pinguini felici fare felice a un pinguino e punto e questa scatola ta 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 e punto non è di più modelli perché metto qua tanti modelli avete visto che questo triplo il volpeti detto fox il campiotti il certo le tre che hanno lavorato tantissimo hanno fatto non è il mio merito perché tu avete parlato di questa è l'occasione perché sono qua le tre avete lavorato meravigliosamente bene non è il mio merito il merito è il vostro e avete lavorato con tantissimi modelli e uno dice perché questo campo Baeza è obsessionato con i modelli il modello è il sistema è l'istrumento dove uno è capace di simultaneamente la simultaneità delle tre dimensioni e di mettere il modello sotto il sole per la luce e per lo spazio il mio fratello che è un ingegniero molto molto più intelligente che da me e più mi dice ah tu sei modelli cosa vecchia è antico e ora con il computer si può fare un modello di tutte le dimensioni si muove con lo schermo io le dico sì 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 ma io mai ho visto un architetto con il portatile con il laptop sotto il sole impossibile il modello è un strumento io direvo più che necessario è valiosissimo e questo dico abbiamo lavorato tanto e me i collaboratori sono tanto buoni abbiamo fatto tanti modelli e tentando di essere precisi 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 la precisione come un poema come un poema come le parole punto 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 dimensioni la sezione che è bellissima e l'architetto che mi fa la struttura è sempre è un omaggio ai pinguini punto un grandissimo modello a grandissima scala la costruzione e questo è lo schermo del museo sopra ho fatto questo che è il ristorante sono uffici di una sola banda e questo è il ristorante sopra che si guarda le due le due parti della città la città verso il fiume e la città propriamente che è Granada in questa immagine si può guardare a sinistra alla vostra sinistra l'alambra e tutto questo che dopo la sedia è del Mies Van der Rohe va bene ma non è non è essenziale punto 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 e punto dopo come il corrimani è sempre ma si fa un corrimani adeguato è finito il museo andiamo per l'ultimo periodo l'ultimo periodo è nelle casine del primo periodo erano case con la plataforma e sopra la plataforma aveva un tempietto il soggiorno la parte pubblica della casa questo sono una collezione di degli ultimi progetti dove la plataforma rimane quasi nuda questa è una plataforma in fronte del mare a Cadice che dopo la spiego questa è una plataforma a Lanzarote in fronte il mare con le saline sotto e questo è la casa che la unica opera che in questo momento ho in cantiere devo dire che per animare a questi architetti giovani che un architetto può costruire poco deve costruire ma non costruire mille cose un giorno io ho parlato con un amico mio che era della mia della mia scuola e mi ha detto Alberto io ho fatto due mille edifici ho detto Dio e lui è simpatico è bravo è ricco molto ricco ma simpatico e lo fa bene non è malo e quando sono ritornato a casa io ho guardato la mia vanità la mia monografia e ho detto quanti edifici ho fatto ho raccontato e avevo fatto da solo 37 con 60 ora sono 66 ma era l'anno scorso con 65 aveva fatto solo 37 e gli ho detto sono un disastro no ma qualcuno piccolino qualcuno un negozio piccolo è schifoso ma questa notte aveva ho l'abitudine di leggere prima di andare a letto un pochino e questa notte aveva una biografia di Shakespeare uno che si chiama Bryson molto simpatico è una biografia un po' un po' particolare ma lui diceva la pagina che toccava questa notte diceva come voi sapete che Shakespeare aveva scritto 37 opere di teatro e io ho detto io sono con voi questa è l'unica cosa che ho in cantiere ma sono contentissimo è una casa che già non ha nessuna cosa sopra tutto sparisce e solo nuda la realtà ma come a Milano in Italia tutto il mondo dice sì sì già originale questo Campobietta non è originale questo lo ha fatto chi lo ha fatto lo ha fatto libera per la casa ma la parte tantissimo tempo fa questo di fare una casa dove non è un tetto non è chi profitta il terrazzo una casa chi profitta il terrazzo come il tetto come terrazzo ma è una casa che è un terrazzo una 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 e punto e dopo sotto come un uccello fa il nido e punto e questo il posto un'altra volta di più il posto è bellissimo è come un pezzo di paradiso in fronte al mare in fronte no so quasi no quasi prima linea del mare a Bologna Bologna non Bologna italiana ma Bologna di Cadice che è un posto bellissimo dove i romani i romani sempre hanno preso il meglio lo meglio e questo è molto molto vicino a Bologna e punto e in questo caso il travertino è romano è veramente romano sarà Flaminio uno per uno abbiamo io ho preso uno per uno la pietra le tre buchi che sono la piscina l'ingresso e un anfiteatro l'anfiteatro è perché mi hanno domandato il cliente mi ha detto un haunt theater e io ho detto un anfiteatro e ho fatto e dopo ho scoperto che era un errore mio che loro avevano domandava una cosa all'interno scavata chiusa nera per un haunt theater con schermo e abbiamo fatto dopo le tre buchi scavati in questo piano di travertino non ho nessuna immagine qua può ricordare a un scultore Heiser americano che fa questo scava scava buchi e sono tre buchi che fanno ma forse il discorso doveva essere più lungo sopra l'escavazione del solido ma punto ora è così ma tutto è per parlare della la vera plataforma che ho fatto questo è a Cadice entre le due cattedrale una cattedrale a sinistra chi è barocca e con qualcun'altra cosa di più a destra invece in questo caso invece di togliere la prima cattedrale rimane la prima che è il cubo a destra e in between entre le due cattedrale erano un posto archeologico mi hanno domandato di coprire proteggere il posto archeologico e ho detto invece di fare un tetto a due falde per proteggere andiamo a fare una plataforma si protegge e si fa un posto un'altra volta di più ritorniamo alla prima idea di fare una cosa in alto dove è così e entre la plataforma e il mare e l'autostrada che è tutta piena di macchine con questo che si fa si fa non solo questo che è evidente non vuole descrivere l'operazione la rampa che arriva ma soprattutto questo sparisce tutto e uno va a solo guardare il mare le macchine no no bene le macchine che erano entre la 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 e il mare e perfetto prima 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 e qua si guarda le macchine no le macchine ma quando uno è completamente alla plataforma tutte le macchine disparisce e uno grazie grazie uno rimane così forse qua qua devo contare la verità di questo questo ha una una luce come si dice una farola farola un baculo con la luce un lampione ha un lampione qua ma il mio fotografo lo ha con il photoshop ma devo dire che veramente quando uno è là come questa signorina il lampione sparisce ma un giorno una studentessa da Cadice a Madrid mi dice Alberto Alberto sono stato a Cadice questo fine di settimana e ti hanno mettito un lampione punto per finire e non essere tanto tanto lungo la ultima opera questa opera forse è la più complessa e forse non so come calificare il problema o il posto era questo una cattedrale a Zamora una città di Spagna vecchia con una cattedrale romanica e in fronte alla cattedrale aveva questo posto che era vuoto che era un vecchio convento che era destrutto e solo restava un po' di giardino e non di più e io dovevo fare un edificio di uffici che è per per i politici per i senatori ma questo non era lo più importante lo più importante è dire come una redettura contemporanea può dialogare con la città storica il problema era chiaro e la soluzione semplice la prima maniera di dialogare era tutto il solaio si cerca con una mura di pietra con la stessa pietra della cattedrale il lotto grazie il lotto che ha questa forma con una geometria diversa questo lotto si cerca con una mura fatta con la stessa grossa con la stessa pietra della cattedrale e all'interno si fa un'architettura che può essere con questo paesaggio interiore nuovo controllato per noi può essere trasparente come si è fatto punto da la cattedrale si guarda così si guarda questa mura anche si guarda da questo punto che è la torre della cattedrale si guarda così l'idea è questa che è chiara e semplice un'altra volta è l'ortus conclusus l'orto chiuso per la mura di pietra io tentava di una parte la idea era chiara tutto era semplice e io diceva ma siamo nel terzo millennio devo può usare la pietra ma non la pietra come la usava un vecchio ma ora quando la pietra si taglia della montagna si taglia con tutto con macchinaria italiana si taglia una grande grande lastra e uno dice andiamo prendi la lastra completa perché tagliare la lastra è una lastra piccolina no io voglio la lastra completa la lastra la più grande capace di essere prodotta industrialmente per la per la la fattoria uno due anche per il vetro lo stesso se la fattoria mi dà un vetro grande io non sono domandando un vetro speciale io ho detto il vetro il più grande industriale punto le due cose per mostrare che siamo al terzo millennio non siamo dopo con la pietra si poteva fare così ma era carissimo e io ho detto almeno una la pietra non è tanto piccola si è fatto con le pietre di uno per 75 tutto meno la pietra che è nel corner che dopo si verrà e la pietra nel corner basso nel socolo è una pietra di 250 per 150 per 50 e questa è la famosa pietra angolare si dice pietra angolare la pietra angolare della si dice sacra scrittura ecco questa pietra angolare e con una iscrizione in latino bene pietra una pietra angolare e dopo un vetro anche un vetro angolare in questo modello penso che si guarda e si capisce perfettissimamente tutta l'idea del progetto come la grossa mura di pietra e la delicatissima scatola di vetro la scatola di vetro perché si può fare una scatola di vetro delicatissima perché ha una doppia pelle avete studiato in installazione una cosa che si chiama murtromb il muro muro tromb muro di tromb che è un doppio muro ma un doppio un doppio vetro si ha fatto tante volte per coprire un balcone un balcone si copre con il vetro della prima finestra e una seconda pelle in questa scatola di vetro si produce in inverno si chiude e tutto è come l'aria calda si mantiene e fa la protezione dell'interno in verano l'estate si apre e l'area circola e affresca un po' l'interno e questo meccanismo è molto semplice e uno può fare questa seconda pelle o la pelle la più esterna può essere quasi niente è questo che abbiamo fatto è chiaro è semplice evidentemente il vetro nella prima pelle la pelle la più esteriore perché il mio edificio ha solo due libelli si può fare con un unico vetro senza senza giuntura si fa un vetro di quasi sette per quasi tre che è la industria il vetro il più grande che mi dona che mi dà la industria senza pagare di più e punto e uno dice e come si sostiene è miracoloso no nessuno miracolo è con la silicona strutturale ha una silicona strutturale io potrei raccontare tantissime cose ma il tempo non vuole essere lungo ma è punto e tutti gli americani mi dicono come l'ha fatto è come l'ha fatto è semplice punto il modello a destra la realtà a sinistra in questa mura si apre qualcun buco per che verso la città è un orto sconclusus ma si può guardare che cosa succede dentro non è nessuno secreto questo è il modello la pianta la pianta non si può parlare tanto ma è chiara è una pianta con gli elementi serviti elementi servitore punto non ha nessun problema verso l'estero è questa mura con i buchi con gli alberi con gli alberi della strada l'interno con anche questa scatola è tutta in pietra non solo le pareti ma il pavimento con la stessa pietra che si è fatto così e punto e la scatola di vetro all'interno ho fatto una volta di più un esercizio di luce ma non è non è la cosa la più interessante dell'edificio sono una volta di più e per parlare di che un dettaglio questo uno dice ah Miss Van der Rohe diceva Dio in ogni dettaglio no e questo è vero ma non tanto evidentemente un dettaglio è importante ma la cosa la più importante è l'idea generale se l'idea generale funziona va bene se no uno dice ah no no è l'idea generale punto la scatola l'osterno questo io potrei questo in questa immagine noi siamo all'interno di questo il corridoio interno della scatola si può si guarda qual è il trucco il trucco il trucco è che si fa come un costilla come si dice questo la parete verticale che solo va sopra le costelle 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 coste costillas coste costelle coste le coste si capisce le coste in vetro e punto che fa tutto l'ensemble è resistente e dal punto di vista strutturale contraforte è come un contraforte di vetro ma il contraforte è solo la parte superiore e uno può camminare all'interno punto a me mi piace ecco dice pietra lapis angularis eccetera come per dire che questa è la pietra angolare questa è la pietra del 250 per 150 per 50 e della stessa forma il vetro è oc vitrum angularis con la con la data aveva la dubita di mettere questo secondo in inglese ma ha detto no 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 abbiamo chiamato al canonico 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 latinista della cattedrale che ha detto questo ma questo veramente di tutto questo dico che è una maniera di mostrare che noi abbiamo la possibilità di fare l'architettura contemporanea non del secolo 21 ma del terzo millennio oggi alla città storica questo che veramente è un problema è un tema italiano di fare l'architetto contemporaneo nella città storica senza essere metterse la disfrazzarsi disfrazzarsi di antico è questo dopo io può parlare qua che questa è la vecchia ossessione dell'architetto che è costruire l'angolo con l'aria e questo è vero uno può costruire l'angolo la importanza il tema dell'angolo nell'architettura che anche il punto dove viene la tensione e l'angolo il triedro sopra le tre plane che conformano la scatola dell'architettura si può fare con aria si può fare con aria noi siamo potiamo fare l'architettura la più la più moderna la più contemporanea non è la più catatatatata come tutte le riviste sono pieni di cosa superficiali si deve tentare di essere profondo e essere il nostro tempo è una cosa più seria più profonda e più bella che non uno non è più moderno per fare tutto inclinato girato coloreato caro no no è più più semplice in definitiva costruire l'angolo di aria in definitiva che essere architetto merita la pena mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti